Partita molto equilibrata e si è visto tanto atletismo in campo. Cosa è mancato però? Guarda, sicuramente abbiamo fatto la partita e è mancato solo un pizzico di cinismo in più e un po' di fortuna. Il portiere loro ha fatto diversi interventi importanti, noi deviamo essere un po' più concreti. C'è fiducia in vista dei prossimi impegni? Secondo me abbiamo giocato al calcio, penso che è una cosa che non si può discutere. Poi chiaramente il pallone è così, chi ha buttato dentro vince. Grazie.